76, 2007, 81. Normale, super, senza piombo, che tempi, che annate. Ma c'era ancora la lira. E poi benzina gran riserva. Lo sai adesso quanto vale questa? Niente, è roba da collezionisti. Con una Fiat a metano o a GPL, viaggi spendendo la metà. Oggi Fiat ti offre la gamma GPL al prezzo del benzina e in più finanziamento anticipo zero e interessi zero. Vieni a scoprire l'ampia gamma GPL o metano di Fiat. Fai il pieno con meno di 12 euro. E va bene.